Buongiorno a tutti, siamo qui riuniti in quel di Cervinia al riprovo dello Springer Camp 2007 Lo Springer Camp mi piace Lo Springer Camp ti piace? Mi piace, mi piace Con il qui presente Forme E siamo qui pronti per fare qualche domanda al qui presente L'hai chiesto due volte il qui presente Che ragazzo vuoi? Se no io mi servisciatore e decido io Fai le domande Forme Come ti senti in questo momento, prevalentemente parlando? Bah, sto bene, sono qua con i miei compagni di squadra storici Più il nuovo acquisto Teoporti ufficialmente da quest'anno Unico Springer ex Sant'Antoniano Che ricordiamo abbiamo incontrato per strada Ecco la turchia Mi hai incontrato per strada Sono contento, sono contento Mi trovo bene, mi trovo bene Vinciamo di best E dell'allenatore nuovo giocatore Direi più allenatore Che giocatore direi Un allenatore in campo No, no, guarda che a lui ha detto che ti vuole fregare il posto in campo Ah, fregare il posto in campo? In cui detto? Ma è una parola grossa Reagisci, reagisci Gualdo Non ha detto così Non ha detto così Ha detto così Ha detto che è molto forte di te E ti pianterà sotto tutti i punti di vista E ti taglierà fuori Perché lui decide chi entra in campo Intanto è un melanino differenziato E psicologicamente parlando È rosso di capelli E si sa che è rosso mantelo Rosso di capelli E' goloso di usare Esatto, bravo Ma non c'entra un caso in questo momento Lui ha detto che Che propositi hai Per una parola stagione Per cercare di Dimostrare il contrario In quello Non mi devi più dire nulla No, bene Lele, innanzitutto Sei più basso di me Quindi Tutto sommato Non sconto tra giganti D'accordo? E non sconto tra tizi Di nani Ma comunque Il posto del contrario è mio Cioè Inutile Dai Lele Rinunce Sei basso 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 E i capelli rossi Ma mi hanno detto anche Che uomo basso Tutto cazzo Se come è più basso di te C'è la più lunga Di un millimetrino Ma tanto Né io né lui lo usiamo Quindi alla fine Ciao